Vieni, 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 vieni! Allora, com'è la casa del papà? Bella? Sì, ma pochi giochi. Però abbiamo fatto il divano a zattera. Wow, e c'erano anche gli squali! Perché mi gratti la gamba? Perché mi prude. Ti prude la mia gamba? È il diavolo che gioca a bocce. Davvero? Se hai paura, abbraccia. Oh, sì. Così tu non mi fai volare via? No, perché io mi stringo forte alle mie mutande. Allora, stringiamoci fortissimo, fortissimo, fortissimo. Fortissimo, fortissimo.